Ciao a tutti ragazzi, salve di tutti a questo nuovo video, io sono Francesco Pagano e oggi siamo in questo nuovo vlog. Allora, non siamo in camera mia di solito, come al solito, anzi, di tutto, perché siamo nel mio giardino, sì, il mio giardino, questo è il mio giardino. Sì, ma capito Ciccio che ha detto papà? Che ha detto? Papà un momento dai, io entro e ti va a mettere l'acqua, poi viene... Yeah, chissana? Ciao. Ciao Scarlett, saluta gli iscritti Scarlett. Tutti fai drastra. No mamma, da Far Cry Primal ho imparato a domarla. Fuci, 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 no, non è niente, calma, non è niente. Fai la brava? Fai la brava, fai la brava, non ti mangiare i gatti. Fai la brava, non ti mangiare i gatti. Fai la brava, non ti mangiare i gatti. No mamma, sentite, dice a Savera che me non deve rompere. Forrest! Dai Forrest, non te ne andare. Yo Forrest! Calma, non è niente. Oh, quel giocci è carino! Ragazzi, volevo dirvi che verso le 4 uscirà un video di non so cosa da Valerio. Da Valerio, quindi... Un secondo, sta là! Torniamo dalla mia tigre Dai denti di sangue Lancio l'esca Scarlett guarda l'esca è un like Mettete like Metti like Metti like Fugi 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 Mi vuoi accarezzare La cuccia di Scarlett Ovviamente fai da te Niente esca per una settimana Niente pezzi di carne Niente pezzi di carne per una settimana Perché mi hai rovinato la maglietta Non è vero Dai ma io non gli tengo Col broncio Allora sei cogliona No è potente Fugi Scarlett Fugi Fugi Aspetta Calma Non ti tengo il broncio Calma L'esca te la do ancora Che c'è? Spadella d'acciaio Qua Eh no ma non c'è niente Va bene ragazzi Prima siamo andati dal cinese Abbiamo comprato una nuova sciatola per farle Ovvero la mia tigre dai denti Denti di sangue Sono andati dal cinese Eh? A papà E perché Mauro Devo andare da Valerio Che poi ho promesso A quelli che mi guardano qui sopra Che registravo con Valerio Andiamo Andiamo a trovare il gattino Andiamo da forno No Ora se l'ho già accarezzato nel video No Lo spiamo No non è bello spiare Andiamo da lui però Sta qui sopra Non è qui La vita in prima persona con Francesco Paga No Perché lui non paga niente L'avete capita? Paga No Non fa ridere Non fa ridere Non fa ridere Questo Era il vecchio collare di Scarlett Ma va Ancuno Scarlett Fermati Quello E' l'uovo collare Che è una catena più resistente Andiamo Savi Mi avendo un'idea Voglio Registri Filmami Mentre faccio con la Ok Ma va Fonculo Hai male Tutta 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 Ragazzi Io stiamo registrando Forest Forest No Non fare Non fare Non fare Non fare Non essere Ti auditore Fermo Calma Non sei Né Taccara Né Agiai Gal Né Ti auditore Né Altair Né Armostra E Gal Aspetta Guarda 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 Fasca Firma Cosa Fa Scarlet Quando Ti 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 Hai Trovata Poi La Patella D'acciaio Ma Si Ma Mi Occupi Tutta La Telecamera Mamma Che Crudeltà La Fai Mangiare In Una Pentola E C'è La Ciotola Vero Dentro E Stanno In Coccando Dì Mamma Le Valle C'è Ma Mottola Ah E Vero Vero Perché Va Bene Ragazzi Dire Che Questo Vlog Può Concludere Qui Ci Vediamo Alle 4 Ciao Ciao